Un mezzo pesante è rimasto in bilico sulla scarpata tenuto solo dal quadrail. Il quadrail è accaduto nel pomeriggio di martedì 4 giugno, poco dopo le 15, sulla strada provinciale 41 che conduce all'usiliè ad un mezzo di una ditta di Torino. Il camion, che si è tenuto un po' troppo a destra, le ruote sono finite sulla terra a bordo strada. Il conducente ha provato in tutti i modi a riprenderlo, ma inutilmente. Il mezzo si è appoggiato letteralmente al quadrail e parte del carico in ferro è caduto giù. Il leso il conducente. Sul posto la polizia municipale di fretto per i rilievi e per monitorare la situazione nelle fasi di recupero. Sul posto la polizia.